Sono pronti a partire i lavori al sito di Liternum. Parte dei fondi stanziati dalla città metropolitana saranno ora oggetto di lavori di riqualificazione. È stato firmato il contratto tra città metropolitana e la ditta appaltatrice per la creazione di percorsi didattici a disposizione degli studenti, cartellonistica e lavori che consentiranno di poter usufruire il sito archeologico. Ad annunciare l'avvio dell'opera è il consigliere di maggioranza Rosario Ragosta che ha seguito l'iter in città metropolitana. Finalmente potremo dare la possibilità ai cittadini, ai turisti, alle scolarische di poter visitare il nostro sito di Liternum. I fondi sono di città metropolitana, io all'epoca ero consigliere delegato alla valorizzazione dell'agopatria. Insieme al sindaco Pirozzi abbiamo improntato questo progetto che oggi vede finalmente l'inizio dei lavori. Comprenderà dei percorsi didattici, comprenderà cartellonistica, comprenderà illuminazione, rifacimento del muro perimetrale e anche la cartellonistica. Quindi finalmente si potrà accedere al sito in sicurezza. Dalle economie di gara ci saranno ulteriori fondi da poter comunque implementare in ordine di servizi. Io immagino un'area all'ombra per gli studenti, immagino qualche infopoint, però questo è un divenire. Quando pensa che finalmente il sito di Liternum potrà essere accessibile alla cittadinanza? Quali sono i tempi? Adesso possiamo dare dei tempi certi. Fino adesso ero un po' scaramantico nei tempi. Dicevo fra pochi giorni, però in realtà adesso la ditta ha 45 giorni per iniziare i lavori. Sono convinto che sicuramente dimezzerà i tempi, perché questo è un lavoro che è massimo 5-6 mesi. Però anche questo sono fiducioso che per la primavera possiamo inaugurare il sito di Liternum.